Zona bianca, primo giorno per l'Abruzzo, 13 positivi in regione ma sono 5 i decessi, è polemica sulle chiusure dei locali a Pescara in controtendenza con il coprifuoco. Rete ospedaliera da migliorare nel Terramano, lo chiede il consigliere regionale Mariani, chiesto un incontro con gli esponenti locali. Gli impianti di Prati di Tivo senza pace, nessuna apertura per l'estate 2021, di Buonaventura ci facciamo del male da soli. I tifosi del Pescara contestano Sebastiani, dopo la retrocessione monta la protesta. A Terramo il presidente Iachini ancora non ha deciso se vendere la società. Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro Tg Abruzzo, notiziario a firma e cura della redazione di Vera TV. In primo piano l'emergenza coronavirus, partiamo con i dati, sono solo 13 nuovi positivi in Abruzzo, in quello che è stato il primo giorno di zona bianca, ma le vittime purtroppo sono 5. due però in realtà erano già decedute nei giorni scorsi e sono state registrate solamente oggi. Sono solo 7 i ricoveri nelle terapie intensive e se continuasse così potrebbero svuotarsi completamente in pochi giorni. Scendono sotto quota 5.000 gli attualmente positivi in tutta la regione. L'Abruzzo accoglie la zona bianca con numeri tutto sommato positivi. Lo sono infatti quelli relativi ai nuovi contagiati, fatto salvo che il dato è riferito al fine settimana dove il numero dei test effettuati è sempre molto limitato, soprattutto in questi ultimi mesi dove la pandemia sembrerebbe limitare il numero dei tamponi. Sono infatti solo 13 nuovi positivi in regione, ma su un totale di tamponi molecolari effettuati pari a 980 per una percentuale di contagiosità che è dell'1,3%. Il dato è comunque in linea con quello che è stato l'andamento delle ultime settimane così come lo è anche quello complessivo dove vengono considerati anche i test antigenici e qui la percentuale che viene fuori dal rapporto è come sempre leggermente più bassa ed è pari all'1,1%. Risibili in questo caso gli incrementi territoriali che vanno dai più 5 di L'Aquila al più 4 di Pescara ai 3 di Chieti e a un solo nuovo positivo nel Terramano. L'unico dato che non va bene oggi è quello relativo ai decessi che sono stati ben 5, uno dei più alti degli ultimi tempi ma va precisato immediatamente che due di questi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi ma comunicati solo oggi alle ASL. Resta comunque un numero alto se riferito agli standard degli ultimi tempi. Le vittime sono tre della provincia di Pescara e una a testa del Chietino e del Terramano. Aumenta di una unità invece il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie non intensive delle strutture ospedaliere regionali. I letti occupati tornano ad essere 91 mentre fortunatamente continuano a svuotarsi le terapie intensive dove i letti occupati sono attualmente solo 7, uno meno di ieri e dove non si sono registrati nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Scendono finalmente sotto quota 5.000 coloro che si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'ASL di competenza. Sono 553 meno di ieri per un totale di 4.477 e anche questo è un numero che non va sottovalutato. Sono addirittura 584 i nuovi guariti, uno dei dati migliori degli ultimi tempi e anche questo elemento procura la discesa sotto quota 5.000 degli attualmente positivi in circolazione nella regione che sono addirittura 570 meno di ieri, una enormità e un totale di 4.575. A Pescara è polemica aperta sull'iniziativa della maggioranza che ha dato nuovi orari di chiusura ai locali nonostante l'abolizione del coprifuoco, chiusure differenziate a seconda del tipo di locale che non sarebbero appunto allineate con quelle che sono le disposizioni arrivate invece dal governo e la minoranza va all'attacco della giunta insieme alle associazioni di categoria. Sara Del Vecchio. Da oggi al 7 luglio a Pescara i locali devono rispettare gli orari di chiusura decisi dalla maggioranza mezzanotte e mezza dalla domenica al giovedì e l'1.30 il venerdì e il sabato. Allo stesso tempo con l'ingresso in zona bianca di tutta la regione ci si libera del coprifuoco. E così scoppia la polemica anche se la possibilità di tornare a casa quando si vuole e la chiusura dei locali sono due cose diverse. Le associazioni di categoria insorgono e i consiglieri del centro-sinistra criticano duramente la scelta della maggioranza. Ci sarebbe una ragione politica alla base di tutto, riferisce ai nostri microfoni il consigliere del PD Francesco Pagnanelli. Si tratta di una cambiale elettorale nei confronti di alcuni residenti ai quali il partito della Lega ha promesso in sede di campagna elettorale di acquietare la zona. Si tratta in particolare della zona centrale, Piazza Muzzi e Vieli Mitrofe e per fare contenti questi pochi residenti si va a scontentare un'intera città. È una decisione incomprensibile in quanto arriva subito dopo un periodo durissimo per le nostre attività e per la nostra città, di chiusura di tutte quante le attività di ristorazione e bar e adesso nel momento in cui l'Abruzzo rientra in zona bianca e si torna alla normalità, gli esercenti devono subire un nuovo colpo sulle loro attività. È il momento invece di far ripartire l'economia cittadina. La incoerenza di questa misura è proprio nel fatto che coloro i quali gridavano contro il coprifuoco nel mese di aprile oggi sono coloro che impongono un coprifuoco cittadino unico in Italia di fatto nella chiusura di questi esercizi e che le associazioni di commercianti stanno giustamente impugnando e noi saremo al loro fianco. La maggioranza ha detto che nei mesi più dell'estate questi orari verranno comunque cambiati. Ma ci mancherebbe altro che nel pieno del turismo e della stagione dovessero imporre un orario di chiusura così limitante a queste attività. Il problema è porlo adesso, cioè nel momento della riapertura, nel momento in cui la gente ha voglia di riuscire e sarà impossibilitata a prendere un gelato dopo mezzanotte e mezza perché troverà la gelateria chiusa. Il consigliere regionale di Abruzzo in Comune, vale a dire Sandro Mariani, chiede un salto di qualità per quello che riguarda la rete ospedaliera, soprattutto nella provincia di Teramo. iscrive al Presidente della provincia, al Comitato Ristretto dei Sindaci, anche agli altri consiglieri regionali per chiedere al più presto un incontro. Alfredo Giovannozzi. Qualcosa bisogna fare, bisogna muoversi e allora bisogna chiamare a raccolta il Comitato Ristretto dei Sindaci, il Presidente della provincia, i consiglieri regionali. Per cosa? Sì, proprio in queste ore sto inviando una lettera aperta al Presidente della provincia per convocare tutti i consiglieri regionali e i sindaci e il Comitato Ristretto della Sanità per naturalmente discutere di questa bozza della rete ospedaliera che preoccupa notevolmente non solo il sottoscritto, ma tutto il mondo sanitario Teramano. Ci sono delle cose che francamente sono incomprensibili. Quali sono queste cose che non vanno? Una su tutte c'è una questione che mi ha fatto abbastanza inalberare durante la commissione, cioè leggere che si prevede una walk di neurochirurgia con una stroke di primo livello e una neurochirurgia dedicata alla colonna, quindi praticamente una neurochirurgia che può adoperarsi e può operare limitatamente alla colonna. Quindi chiediamo insieme a questo di riequilibrare anche il numero delle WOSD che rispetto all'Aquila appaiono anche qui colpovevolmente minori, cioè 3 per i Mazzini e oltre 30 per il San Salvatore. Capite bene che naturalmente tutto questo insieme a tante altre cose preoccupa notevolmente. In sostanza c'è e pare lampante un disegno che vede la sanità abruzzese riconoscere due idee di secondo livello, una all'Aquila e una a Pescara. Anche se non hanno avuto il coraggio di scriverlo, faccio sempre un esempio che rende l'idea, è come se uno costruisse una villa e catastalmente dice va bene questa però attualmente la vado a registrare come casa. Tanto per capirci, al di là degli WOC, USR, GULP, SLURP che sembrano termini fumettistici, di chi è la colpa? La colpa è di una maggioranza al momento che io appunto sto sollecitando a dare risposte, soprattutto i consiglieri regionali di Teramo che sono da giorni ormai colpevolmente in silenzio. Io spero, perché non mi interessa la polemica politica ma mi interessa il bene del nostro territorio, che abbiano uno scatto di orgoglio e che, come dire, nelle prossime ore annunciano anche loro di fare battaglia a difesa della sanità della mano. A Pescara, Riviera Pedonale, solo in alcuni weekend di luglio e agosto ed eventualmente anche nella Notte Bianca che si svolgerà anche quest'anno. Il sindaco Carlo Masci ci parla del progetto che ha riscontrato un certo successo anche tra le attività commerciali. Sergio Cinquino. È il polmone della città e anche la sua bellezza. La riviera semideserta nei giorni della pandemia ma che ora è tornata a vivere a Pescara recuperando il proprio spazio con la città che riapre e si annuncia un'estate con il lungomare vietato al traffico. Ma non sarà una chiusura totale. Il sindaco Carlo Masci, che per primo ha parlato dell'idea, spiega ai microfoni di Vera TV come verrà realizzato il progetto, con gli stop previsti solo per i weekend e per alcune giornate particolari, con un esperimento già collaudato nelle passate stagioni e nella riuscitissima Notte Bianca pre-Covid. Allora, una proposta che arriva direttamente dal sindaco, la riviera pedonale, è un'idea vecchia e nuova. Sì, noi pensiamo che quest'anno si possa alzare l'asticella della vivibilità della nostra città. Alcuni sabato del mese di luglio e del mese di agosto, la sera la riviera potrà essere sicuramente pedonalizzata perché la gente si riversa verso la riviera. Non c'è sicuramente bisogno di avere la strada occupata dalle macchine. Io vorrei che fosse occupata dai pedoni, dai tavoli delle persone che si siedono tranquille a mangiare o a godersi lo spettacolo di un mare bellissimo. Questo deve essere la riviera di Pescara. Quest'anno vogliamo sperimentare da via Leopoldo Muzzi a via Galilei, la zona centrale, anche perché chiudendo quella zona possiamo tenere sotto controllo il traffico. I parcheggi ci saranno, c'è l'area di risulta, c'è la strada parco, ci sono i parcheggi delle zone limitrofe. C'è già un primo crash test, una data che potrebbe essere di riferimento? Non c'è una data perché non abbiamo ancora stabilito il giorno, ma io credo che dalla seconda metà di luglio possiamo sicuramente muoverci in questa direzione. Il mondo va verso il miglioramento della qualità ambientale delle città e il mondo non aspetta. Oggi va veloce e le città devono adeguarsi. Noi come Pescara siamo pronti a farlo perché abbiamo già fatto un lungo percorso di vivibilità, di zone pedonali, di piste ciclabili. È una città che si è mossa molto. Potrebbe essere poi un progetto definitivo? Per adesso non credo sia il caso di parlare di progetti definitivi perché comunque bisogna sempre coniugare il discorso della viabilità, della mobilità e della vivibilità. Quando si troveranno gli equilibri? Perché no? Sicuramente la riviera di Pescara potrà diventare altro. Gli impianti dei prati di Tivo resteranno chiusi anche per la prossima stagione estiva, ha rammaricato il presidente della provincia di Bonaventura, Giancarlo Falcone. Seconda offerta migliorativa per i prati di Tivo è arrivato all'ultimo momento, però è tutto fermo per il resto. C'è la stagione estiva che vorrebbe partire. Sì, ha detto bene, distinguendo i due binari, il futuro della montagna che passa sulla chiusura di questo bando dove è arrivata una seconda offerta. Quando tutti dicevano che questo è un matto, non c'è nessuno che vuole portare mille lire in montagna, invece non è così e lo dimostrano i fatti. Io dico sempre che gli effetti sono cause di scelte e questi sono gli effetti positivi. Poi c'è l'altro binario che è l'ordinario e qui entra in gioco l'ordinaria follia di un territorio perché ai prati oggi potrebbe essere in funzione, se gioca a Binovia, invece non è in funzione. Non perché uno dell'Uzbekistan mette un veto, ma perché tra territori non ci si trova più. Io chiedo ancora una volta di ragionare, di portare nelle scelte il cuore per la propria montagna e non far prevalere i dispetti, i rancori. Credo che siamo nel 2020 e tutto questo debba passare. Lei si rende conto che al mare, a Giulianova, a Bariati e a Tottoretto, c'è un'agenzia di viaggi che ha chiesto di fare un accordo con i prati di Tivo. Gli hanno risposto che non abbiamo più la cabinovia e si stanno spostando verso il Monte Piselli. Ma è così. Ecco, noi abbiamo due esempi, perché noi parliamo di montagna, parliamo di prati di Tivo, Prato Selva e parliamo anche del Monte Piselli. Ecco, lì ci sono n persone che si sono messe insieme, la provincia è tornata dentro quella società per il bene di tanti, non di pochi, per il bene di una comunità, per il bene di un territorio e per promuoverlo. Qui sono l'esempio positivo e attualmente ancora i prati di Prato Selva sono l'esempio negativo. Di chi è la responsabilità prati di Tivo e Prato Selva? Sempre dell'uomo, è sempre dell'uomo. L'uomo che fa prevalere il male invece del bene. A Teramo Porta Reale, la porta d'ingresso alla città datata a primi anni del Novecento, resta ancora avvolta dalle impalcature per i lavori di restauro. L'opera doveva essere riconsegnata oggi, ma il prolungamento dell'intervento farà slittare e ancora di qualche giorno la riconsegna. Non si vede la luce invece per la scuola antisismica di Colle Atterrato che non sarà pronta nemmeno per l'inizio del prossimo anno scolastico. Alfredo Giovannozzi. Cavallari, oggi è 7 giugno. Sono stati riconsegnati i lavori del rifacimento di Porta Madonna delle Grazie? I lavori sono... in fase di conclusione manca un elemento da mettere sulla sommità. Però sul cartello c'è scritto riconsegna lavori 7 giugno? Sì, però voglio dire, manca semplicemente un elemento che è stato già realizzato dalla ditta che doveva produrlo e la ditta che doveva eseguire i lavori, penso in questi giorni finirà di fare questo... concluderà il lavoro. Il lavoro si era concluso già da 10 giorni, mancava solamente questo elemento di garanzia per la cortina sommitale della porta che doveva essere inserito per una maggiore sicurezza, è stato qualcosa che ha voluto fare il direttore del lavoro in più rispetto alla progettazione che abbiamo condiviso. A proposito di grandi incompiute, sperando che Porta Madonna delle Grazie non lo sia, parliamo della scuola di Colle Atterrato. Prossimo anno scolastico, sarà la volta buona? No. Diciamo che ci stiamo lavorando allacremente, è stato fatto il progetto, è stato approvato in giunta il progetto diciamo di completamento delle opere che mancavano, è stato fatto il bando di gara, 15 giorni penso per l'apertura delle offerte che dovranno arrivare all'ufficio contratti e dopodiché si potrà partire tranquillamente con i lavori. Quindi per il prossimo anno scolastico se lo possono scordare? Io credo di poter dire che il prossimo anno la scuola sarà aperta, ma devo pure, devo pure ovviamente... Prossimo anno 2022? Prossimo anno, parliamo del settembre 2021, anno scolastico 2021-2022. Quella scuola ha avuto un itere veramente così difficile e complicato che speriamo possa essere finito oramai Tutte le attività che abbiamo messo in campo per poter finire questa scuola sono, diciamo, la luce del sole. Adesso manca un elemento finale che è quello della giudicazione dei lavori e finito di fare la giudicazione dei lavori dovranno lavorare allacremente anche il 15 di agosto per poter riconsegnare la scuola a settembre. È stata approvata dal CAI nazionale la richiesta per far diventare la sottosezione Val Vibrata Monti Gemelli una sezione indipendente. Un gruppo nato da meno di due anni che ha riaperto, grazie ai volontari, 30 sentieri. L'ultimo sulla montagna dei fiori, come ci riferisce Chiara Bonatti. È stata approvata la richiesta per permettere alla sottosezione CAI Val Vibrata Monti Gemelli di essere sezione a sé. Nata grazie a Teramo è cresciuta sempre di più riuscendo ad avere un numero maggiore di volontari che offrono le loro competenze per la sicurezza dei turisti nelle montagne dei nostri territori. Siamo ancora sotto sezioni di Teramo e ringraziamo i nostri amici di Teramo che ci hanno fatto nascere, ci hanno dato questa possibilità. circa tre settimane fa i CAI di Abruzzo hanno accolto la nostra richiesta di diventare sezione e adesso stiamo aspettando il nulla osta del nazionale. Sì, noi abbiamo con sorpresa, perché siamo nati sulla costa e quindi diciamo in un ambiente un po' lontano culturalmente dalla montagna, ma con sorpresa abbiamo avuto tantissimi volontari che si sono avvicinati a noi, che hanno incominciato a sperimentare la bellezza dell'andare per natura, del camminare, dell'andare per monti e non soltanto questo, ma che hanno incominciato anche ad accorciarsi le maniche e a riaprire sentieri che un tempo erano frequentatissimi da chi viveva in montagna e quindi c'è stata una riscoperta del territorio e pensate che in due anni di vita siamo un CAI estremamente giovane, giovanissimo, abbiamo riaperto oltre 30 sentieri ormai, l'ultimo proprio domenica scorsa sulla montagna dei Fiori e questo non è per puro capriccio, ma dietro la riapertura di un sentiero c'è tutto un lavoro di progettazione, di ricerca, si prendono i file del Parco Nazionale con la sentieristica ufficiale, la si studia e poi si va sul territorio a riaprire i sentieri dopo una perlustrazione e dopo viene poi il lavoro di tracciatura, quindi GPS alla mano, si gira, si prendono i punti significativi e l'ultimo atto di questo percorso è riportare tutto su una mappa. Passiamo allo sport, a Pescara contestazioni nei confronti del presidente Sebastiani da parte della tifoseria organizzata e striscioni anche di protesta dopo la retrocessione del Delfino in Serie C. Sergio Cinquino. Si annuncia come la settimana delle contestazioni prima ancora che delle scelte, quella appena cominciata per il Pescara dopo il duro comunicato della tifoseria organizzata dei Rangers che ha invitato il presidente Sebastiani ad andarsene, ora anche lo striscione ironico nel tratto di cancellata dell'Adriatico tra i distinti e la curva sud in riferimento a quella che secondo i supporters biancazzurri che lo hanno affisso sarebbe la poca autonomia decisionale dei direttori sportivi che negli ultimi anni si sono avvicendati alla guida del settore tecnico. Qualcosa in più di una semplice battuta con la tifoseria delusa dalla retrocessione e disacerbata dai troppi prestiti che a detta di molti sarebbero stati i primi responsabili del fallimento sportivo dell'avventura appena andata in archivio culminata con una retrocessione dopo 11 anni tra Serie A e Serie B. A innervosire i tifosi anche in ritardo nelle scelte di direttore sportivo, allenatore e giocatori ma in questo caso la società che per bocca del presidente Sebastiani ha detto di voler prendere tempo per non sbagliare le scelte merita l'attenuante che non è stato ancora ufficializzato il girone nel quale il Pescara verrà inserito, il girone C del sud nel quale agonismo e grinta diventano fattori determinanti o quello del centro, il girone B che somiglia non solo per il nome ma anche per caratteristiche più a una B depotenziata. Nella scelta di uomini e strategie questo è un particolare importante dal quale è giusto non prescindere. Intanto domani la primavera di Herbese sarà impegnata all'Adriatico per la prima volta aperto in parte al pubblico nella Supercoppa Primavera con inizio alle 17 con i pari età del Verona tra le due formazioni che hanno vinto i rispettivi gironi. Restiamo in Serie C, ancora incerto il futuro del Teramo si apre una settimana forse decisiva sia a livello societario che a livello tecnico. Giussi Cingoli C'è grande preoccupazione tra i tifosi del Teramo per l'immobilismo che si registra in città sia sul fronte società che sul fronte mercato. Teramo è una delle poche società nel calcio professionistico a trovarsi in una situazione di stallo. Il tecnico Massimo Paci ha salutato Teramo preferendo una piazza come quella di Pordenone innanzitutto fruttando il salto di categoria in Serie B e poi facendosi cullare sicuramente da un contratto più consistente con i friulani. Il DS Sandro Federico è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno ed è paziente ancora in attesa di un eventuale segnale di rinnovo dalla società del Teramo che invece è ferma nell'immobilismo più assoluto e questo è un segnale di grande preoccupazione per l'intera tifoseria, per il futuro della società e della squadra. Il direttore generale Andrea Iaconi sembra sia fuori dai giochi. Anche qui si attende una voce ufficiale dalla società in tal senso per non parlare poi dei giocatori in scadenza di contratto che non sanno ancora cosa fare e sono ancora in attesa di conoscere il loro futuro e se potranno ancora sperare di giocare con la maglia bianco-rossa la prossima stagione. Il presidente Franco Iacchini, che secondo indiscrezioni, sta lavorando alla ricerca di imprenditori fuori regione che possano aiutare economicamente e affiancare il patron che sembra voglia mantenere comunque la maggioranza delle quote. Tuttavia, al momento, il presidente mantiene il più stretto riservo sulle trattative stesse e non si conoscono i tempi di quanto sarà resa nota all'intera città la sua decisione sul futuro. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, anche per questa edizione è tutto. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con le trasmissioni di Vera TV. Grazie per averci seguito e buon proseguimento.